Quindi l'unico modo per far sì che lei ti pensi è Ciao, quelli che stai guardando sono estratti di un percorso di consulenza che sto tenendo all'interno della mia Masterclass con un uomo esattamente come te che ha dei problemi che lo toccano nel profondo e che deve assolutamente risolvere. Guarda la qualità di informazioni che rilascio e come seguo il suo processo passo passo fino a portarlo alla soluzione, a quello che deve fare ora per risolvere la sua situazione sentimentale. Vuoi partecipare anche tu al mio percorso Masterclass? Bene, clicca il link sotto in descrizione e parla con il mio coach che ti saprà dare indicazioni per entrare. Sei ancora in tempo, costa veramente pochissimo, è per tutte le tasche, quindi affrettati perché è ora di risolvere il tuo problema alla radice e darti la vita sentimentale che desideri. Ora, cogliti il video. Ok, farti sentire anche tu e darle quello che lei sta cercando. Una donna cosa cerca? Cerchi una persona che la paghi in quelli che sono i suoi bisogni. Tutti quelli che ho spiegato anche nelle lezioni della Masterclass, ovvero che le dia ciò che cerca e che sostanzialmente sia diverso dagli altri, quelli che non le piacciono in sostanza. Perché? Perché non fanno quello che le cerca. Ovvero, ascolto, comprensione, flirt, una persona che sia capace di prendere decisioni, magari anche di dibattere con lei, essere in disaccordo, bacchettarla quando serve, che non si appiccicano, tutte le caratteristiche che a una donna piacciono. Se tu sei quella persona che le incarna, al contrario degli altri che non lo fanno, è ovvio che sceglierà te e si ricorderà di te. Perché le avrebbe fornito una qualità di comunicazione e di tempo speso assieme che non ha precedenti, che non è paragonabile agli altri. E quindi dirà, cavolo, ne voglio ancora, voglio lui, non voglio gli altri, non voglio perdere tempo con chi non mi piace. E questa è la definizione del lui mi piace, perché le dà una serie di cose che le piacciono. La persona può piacere a livello fisico, sì, però è un insieme di tutto quello che dà all'altra, alla donna in questo caso, che fa sì che le decida di dire, ok, mi piace. Come anche un uomo, meno di una donna, però un uomo vede, ok, la maggior parte l'aspetto fisico, ok, ma se quello c'è, per far sì che sia una relazione di lungo termine, non solo una botta e via, deve avere anche qualcos'altro dalla donna. Comprensione, ascolto, divertimento, e tante, tante caratteristiche non fisiche. Quindi se sei quella persona lì, ti ricordi, no, le lezioni che ho spiegato, quelle che sono le caratteristiche genericamente associate a interesse degli uomini e delle donne. Se tu sei quella persona che incarna quelle caratteristiche, hai alte probabilità di interessarla, soprattutto se attorno lei non ha nessun altro come te. E lì il discorso è la differenza dell'essere diverso dagli altri. Grazie. 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 Grazie.